La nostra facoltà offre un corso di laurea trennale in design articolato in due percorsi design del prodotto e design della moda ed è attento nella formazione di progettisti professionisti in grado di connettere attraverso delle attività multidisciplinari e interdisciplinari conoscenze sia umanistiche sia scientifiche. Il corso di laurea in design del prodotto forma junior product designer e brand store designer che sono figure professionali attive in diversi settori della progettazione come quella del design del prodotto, dell'interior design, dell'exbit design, dello store e del brand design e della comunicazione visiva. Il corso di laurea invece in design della moda forma un junior fashion designer e un brand store designer, figure professionali che sono attive nel mondo del fashion design, nell'accezione più ampia quindi dalla progettazione di abiti, gioielli, accessori ma anche nel mondo del marketing, del brand design e della comunicazione visiva. Entrambi i corsi formano comunque dei professionisti che sono in grado di affiancare imprese, di aprire studi professionali privati per partecipare all'innovazione di prodotto e di processo delle imprese o dei sistemi produttivi nazionali. Secondo il rapporto simbola 2022-2023 circa il 93% dei laureati in design trovo occupazione a un anno dal conseguimento del titolo, una percentuale che sale al 98% cinque anni dal conseguimento del titolo.